Ciao a tutti guerriere e guerriere 6, io sono Ferdinante, sono Granfantis e Lormum, benvenuti in questo quarto vlogmas, oggi per me sarebbe 5 dicembre 2022, voi dovete vederlo verso metà dicembre. Un piccolo servizio di comunicazione, lo youtuber che voi saprete già chi è, ora non ve lo svelo, ancora non mi invia questo benedetto pezzo di video che devo inserirlo nel secondo vlogmas, ci sarà una piccola modifica, diciamo così, dei short vlog, extra vlogmas, vedremo. Io sono un gran fan di Sailor Moon, oggi parliamo di Walt Disney, meglio dire di un unboxing Disney, torno a fare un unboxing Disney. Il 9 novembre, mercoledì 9 novembre 2022, c'è stato Lapanini, fa uscire questo che sarebbe un puzzle, in collaborazione con la Clementoni di 500 pezzi. Vi anticipo che a gennaio probabilmente, o nelle youtube short, vi farò vedere, ora ho le tre uscite di Calisotas Football Cup, il gioco da tavola, del calcio, ora il mio edicolante ha messo da parte la quarta uscita, quella di Paperinic, mercoledì esce quello, il tabellone poi è completato. Poi farò vedere un video a parte, perché tutti questi qui, la rivista, verranno fatti in video di a parte, separati, e tutti i pezzi di Calisota insieme. Questo per esempio è un bel pacco grande, come potete vedere, è un artwork natalizio di Frecero, dove abbiamo personaggi come Atomino, Gancetto, Reginella, Cipe Chop, Orazio e Clarabella, Bassettoni, eccetera, eccetera, qui ci manca appunto, qui ci manca appunto Pluto, Trudi e Clarabella, dai Paperi probabilmente mancano i Bassotti, ma qui diciamo che sono più i buoni, che i Catibattista, Battista è stato inserito nel Calisota, e anche Manetta, l'aiutante di Bassettoni. Ok, questo è 9,50, veniva il prezzo, io lo apro insieme a voi, ora lo apro e torno subito, perché è talmente grande, è un passo di 500 pezzi, torno subito. Allora, chiedo scusa, ho dovuto tagliare i pezzi del restante, allora qui abbiamo, io come collezionista, conserverò la bustina, scusate se ballate, Allora, qui abbiamo, ora vi faccio vedere, questi per esempio, vengono messi qui, e il, questa è davvero, la bustina è davvero un packaging delizioso, diciamo così. Allora, la spada di ghiaccio, questo è un volantino, vedremo meglio, la spada di ghiaccio, questo è il topolino 3494, è un, c'era il calendario dopo questo, ma io il calendario questo non l'ho preso, neanche gli scacchi. Qui si si abbonamento, c'è il deposito che c'avevo tanti anni fa, Battista l'ho chiamato nel senso, che eccolo, lui ha ideato Calisota Football Cup, e, e questo è, questa è la prima della copertina, ci fanno vedere anche l'artbook, ora non so chi è che ha fatto sta copertina, Trudy e Gabbani Lain, Allora, ci dovrebbe essere scritto da qualche parte. Ok, non so chi è la copertina, questo era il, quello con il calendario, c'era Pico. Le storie, Silvia Zica, le storie sono queste. Zio Paperone, Topolino è il segreto dei sassi, quindi lo mangio a Matera. Topolino a Contro, per questo. Ok. Il Topolino si presenta così. Il pezzo forte, anzi, da quanto io sono nato, la prima volta è il puzzle, che ora, vediamo un po' se riesco a aprirlo. Questo era un regalo di compleanno, ma io l'ho aspettato parecchio. La storia è che io ho preso ultimamente un altro regalo, un altro puzzle della Clementoni 180 di Batman. L'abbiamo aperto. Ok. Questa è plastica, va nella plastica. Qui è 180, sia quello di Dragon Ball, sia quello di Dragon Ball, diciamo così, e di Batman. è uguale, sono 180 pezzi, il packaging è simile. Sailor Moon nel 2011-104 ha un packaging diverso. Questo è il mio terzo puzzle, io lo cercavo. Come potete vedere, cambia il packaging Disney, Topolino, puzzle 500, Clementone anche il logo. Qui abbiamo la parte dei buoni, di Topolinia, qui anche, vedete? Natale con Topolino, 49 per 36 centimetri, scusatemi, non vedete. C'è 19, non lo so, Disney, copyright. C'è Babbo Natale, Topolino, Paperone, Mickey Mouse, e qui di nuovo l'Artbook di Frecero. Devo dire la verità, Pluto, mi sarebbe piaciuto a Tomino che spunta di nuovo nel Calisota come giocatore di calcio. Allora, il puzzle io non lo apro. Ve lo faccio vedere imbustato. E sono 500 pezzi. Guardate com'è. Mamma mia. Io, quando ero piccolo, avevo degli automobili, un passo con le automobili. Vedete la qualità, la Clementone non mi delude mai. Io ho perso quello, però, un Topolino Mega Dreamer, che ti dà un regalo, uno dei pezzi di 500, secondo me, era un'occasione da prendere. Un autoregalo di un compleanno molto, molto carino. Poi ve lo farò vedere su Instagram, tutto completato. Dio santo, si è aperto. Questo era il Topolino abbinato. Voi, buon Fabio, l'ho contattato su privatamente, mi ha detto che ce l'ha, lo ha comprato. Fabio, io te l'ho detto e te lo ripeto. Secondo me, Calisota e questo siano stati molto meglio come acquisti, come cose gadget riusciti. I scacchi li boccio proprio, perché io non sono una amanda degli scacchi. Invece, io ho aspettato un vlogmas, proprio perché essendo l'albero di Natale... Ah, ieri abbiamo fatto l'albero di Natale per la prima volta in anticipo. Se no, mia madre è tradizionalista, lotto, eccetera, eccetera. Allora, fatemi sapere se voi avevate questo puzzle. Clementoni è una garanzia. Qui è un crossover. Topolino, Panini, Cross, c'è anche il copyright qui, Topolino con Clementoni e una collaborazione. Ziolen aveva ragione su quasi... Il Topolino... Un'altra cosa volevo dire. Negli anni 90, grazie a Ziolen che ci ha fatto nel suo video, Ziolen afferma che, secondo sue conoscenze, a metà degli anni 90, 97, 95, 96, il periodo in cui le Sailor, loro saiba, aveva fatto con giochi preziosi e con l'operazione dei mini Sailor. Poi ne parleremo, perché io devo aspettare due pacchi da Vinted dei gadget di Sailor Moon degli anni 90, un casino. Non è la prima volta. Potrebbe essere la terza volta che Topolino Magazine mette un puzzle insieme all'allegato, diciamo, al giornalino. Vinted, la storia di Vinted, il pacco dei doppioni di Micello Ribbon è stato perduto. Io ho avuto risarcimento di 20 euro, stessa cosa 20 euro, perché io le avevo messi 20 euro. 18, diciamo, 20 euro, alla fine 20 euro. Lo so che è troppo, però, i due manca, io avevo bisogno di soldi. Questi soldi mi servivano, sia io, sia il ragazzo del Nord Italia. Abbiamo ricevuto il risarcimento, che dice, sono difficili da trovare. e io con questi soldi di risarcimento ho riuscito ad acquistare un gadget sailor degli anni 90 e sono due pacchi. Ora devo fare la seconda prenotazione, perché qui, nella cosa che mi deve arrivare, manca un personaggio. In un altro set c'è il personaggio con dei doppioni. Quindi io mi ritrovo ora dei doppioni anni 90, diciamo così, perché non c'era singolarmente. Il topolino, io lo amo. Io a vedere lei, Amelia, anche in Calisota, ci sarà anche Amelia. Molti di questi personaggi li vedremo in Calisota, tranne lei. Lui sarà il portiere, probabilmente, perché è il portiere delle squadre, che sono stampate sul tabellone. e quindi io penso il portiere di Topolino sia Orazio e quella di Paperopoli Ciccio. La Clarabella, non c'è, non so per quale. Ah, eccolo qui. Sì, questa è Clarabella, scusate, questo è Orazio. Poi vi farò vedere anche Calisota, che secondo me riuscì. Sono molto contento, Clementone ha cambiato, mi piace il packaging e anche il logo. 500 pezzi, tanto in famiglia solo io amo i Pasol e poi mi metterò con la pazienza di farlo. Noi ci vediamo nel prossimo Vlogamas, che dovrebbe essere gli auguri di Natale, secondo me, e vi farò vedere un acquisto che avevo fatto un mese fa tramite Vinted, anni 90. Non riguarda né gli anime né i manga, ma bensì i puffi. il mio secondo canale, i RandomTuberBoys, da Facebook a Telegram, li trovate tutti qui nell'info box, il mio blog, se non mi fanno se affidare all'Amazon, i ragazzi del team da Framorimate Channel, Luca, Metabrixia, Bonfabio, Alt Attack, Greco, Sergio Livorsi, Chiaraccio, eccetera, eccetera. Noi ci vedremo con questo unboxing, anni 90, con gli auguri, però il problema è che se lo youtuber non mi manda il pezzo da inserire nel video del secondo vlogmas, quello uscirà molto più, dopo il quinto vlogmas, uscirà questo vlogmas, quindi mi sta dannando, diciamo, io devo controllare l'email per vedere se mi ha mandato qualcosa, non ho avuto nessuna notizia né da su Instagram né da l'email fino adesso, noi ci vediamo il prossimo vlogmas, spero sia il quinto, poi dopo il quinto vlogmas vedrete questo unboxing, cioè questa collaborazione youtuber se lui mi manda in ritardo questo benedetto video, la parte sua registrata. Ciao! grazie a tutti! Grazie a tutti